segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te certo noi siamo decisamente contrari a quello che significa berlusconi e il berlusconismo a quello che ha portato in questo paese anche dal punto di vista culturale perché appunto berlusconi non c'è più ma ci sono c'è il peggio di lui cioè berlusconiani e quindi quello che sopravvive sarà il peggio di questa stagione il tema è che fare il lutto nazionale in questa giornata per onorare un finanziatore di cosa nostra un pregiudicato per 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 frode fiscale è una cosa che in un paese civile sarebbe impensabile dopodiché per quanto riguarda quello che diceva la faccia pure per quanto riguarda gasparri la faccio andare via è inutile dire che questo pensiero è un pensiero che in italia c'è stato è stato molto forte non è un pensiero sono fatti lo dica ma io non lo voglio ascoltare lo può dire ma io lo voglio ascoltare quindi vi saluto e vi ringrazio dell'invito quel che devo dire l'ho detto ed è un finanziatore di cosa nostra perché ha dato un regalo di 200 milioni di lire all'anno dal 1975 al 1992 ogni anno soldi che arrivavano prima a stefano bontate e poi a totorina ecco questo è un fatto è un fatto scritto su un paio di sentenze tra cui la sentenza di dell'utri che ieri era presente insieme ad altri pregiudicati per esempio verdini che andava in giro stringendo la mano no cioè abbiamo le persone che devono per per arrivare al al ad onorare il lutto nazionale a berlusconi devono chiedere ai giudici il permesso per uscire dalla dalla carcerazione ecco questo è anche questa l'altra faccia del mondo di berlusconi che qualcuno deve pur raccontare quindi cosa vuoi dire che si è persa la memoria dato che in fondo a livello cioè oggi mi ha colpito avvenire ti dico il titolo di avvenire no per dire un giornale che non c'entra nulla sommersi dalla melassa di questa magnificazione per dire avvenire no non è il giornale della famiglia berlusconi a berlusconi l'addio caloroso di un popolo quindi il punto è che cosa ha prevalso poi alla fine allora ha prevalso questo pezzo del racconto di berlusconi allora Gasparri è andato via a me dispiace che è andato via ma ha ritenuto che oggi non voleva non sono mai stato come è noto berlusconi